Benvenuti alla quinta lezione, ultima lezione del carattere generale del nostro corso De Principatibus sulla storia delle Signore. L'ultima lezione ci siamo fermati sostanzialmente alla seconda abdicazione di Napoleone nel 1815 e alla fine del congresso di Vienna, anche se non lo abbiamo analizzato. Quello che noi oggi analizzeremo sarà quella che è chiamata restaurazione, vedremo come l'Italia venne restaurata per volontà del congresso di Vienna, delle grandi potenze, in particolare la Prussia, l'Austria e la Russia, e poi arriveremo oggi sostanzialmente alla breccia di Porta Pia e analizzeremo almeno due dei grandi problemi che affliggeranno l'Italia sin dalla sua unità, la questione romana e la questione meridionale. Ma incominciamo senza induggi a vedere quali sono gli stati dell'Italia restaurata. Allora, il principio di legittimità fu solo parzialmente rispettato dal congresso di Vienna, anche per quanto riguarda la riorganizzazione degli spazi italiani. In particolare non furono ristabilite le due antiche repubbliche aristocratiche di Venezia e Genova. Il territorio della prima fu in parte annesso direttamente agli stati ereditari asburgici, Istria e Dalmazia, e in parte compreso nel Regno Lombardo-Veneto. La seconda fu aggregata per intero al Piemonte-Savaudo. Nel Regno Lombardo-Veneto, il primo regno che vediamo noi, costituito con atto imperiale del 7 aprile 1815, l'unica autorità comune era quella, più di lustro che di sostanza, del vicere Arcidu Caranieri, fratello di Francesco I, che risiedette a Milano dal 1818 al 1848. Per il resto esistevano due governi distinti, uno a Milano e l'altro a Venezia, le cui giurisdizioni erano separate dal fiume Mincio. Questa divisione giuridica data per l'appunto del fiume Mincio spiega il perché, ad esempio, la città di Mantova, sebbene noi siamo portati a pensare che tutta la Lombardia venga annessa, al Regno Sabaudo durante la Prima e la Seconda Guerra di Indipendenza, in realtà la provincia di Mantova e il Mantovano sostanzialmente verranno annessi solo nel 1866, con la conquista anche del Veneto. Se in Lombardia sia nel Veneto il governatore era affiancato da un consiglio che a partire dal 1829 si scisse in due senati, uno con funzioni politiche e amministrative, l'altro con competenze finanziarie. Dal governo centrale dipendevano i delegati provinciali, che richiamavano da vicino i caratteri dei prefetti napoleonici. A questo accentramento amministrativo facevano però da contrappeso, entro certo limiti, le larghe autonomie lasciate ai comuni grazie al ripristino degli ordinamenti teresiani e una rete di congregazioni provinciali i cui membri, per la maggior parte nobili, erano nominati dal governo, ma su proposta dei consigli comunali. Che a loro volta esprimevano con lo stesso sistema una congregazione generale per la Lombardia e una per il Veneto, con vaghe funzioni rappresentative e consultive. L'argamento autonome soggetto direttamente a Vienna era infine l'organizzazione della polizia, assai efficiente e vigile contro ogni fermento di tipo nazionale o liberale, sebbene lente e macchinosa al confronto con quella napoleonica. L'amministrazione asburgica del regno Lombardo-Veneto appare una delle più scrupolose e moderne nei quadri italiani, capace di significativi progressi in campi come l'istruzione, la sanità, le costruzioni stradali. Dopo il 1820 la Lombardia, che rispetto al Veneto disponeva di un'agricoltura più avanzata, giuncetto di operatori economici più forte e intraprendente, seppe approfittare della favorevole congiuntura internazionale per accrescere la sua produzione di seta filata e di cotonate e per affinare negli anni 40 la creazione di industrie metallurgiche e meccaniche. Era tuttavia diffusa la protesta contro un prelievo tributario che andava in buona parte a beneficio delle casse imperiali e al malcontento dell'aristocrazia fiondearia per la mancata restituzione dei privilegi cui essa aveva goduto in passato, venne a sommarsi col passare degli anni l'adesione del cetocolto. Vivenne una frazione della stessa nobiltà alle idee liberali e patriottiche veicolate dalle società segrete e attinte dai modelli stranieri in primo luogo l'Inghilterra e la Francia. Lo stesso Clero era insoddisfatto a causa della fedeltà del governo austriaco agli indirizzi giuseppini di politica ecclesiastica, come appare chiaro nel rifiuto di ristabilire immediatamente gli ordini regolari soppressi da Napoleone e dalla nomina di un austriaco Geisrück come arcivescovo di Milano. Un altro regno che viene ricostruito, restaurato, è il Regno di Sardegna. Il Regno di Sardegna fu tra gli stati italiani quello che più si avvicinò alla realizzazione del programma di ritorno integrale al passato. A voliti gli ordinamenti napoleonici furono ristabilite le arcaiche costituzioni del 1770, già arretrata al momento della loro promulgazione. Furono riprestinati i privilegi dell'aristocrazia del Clero, cui venne restituito il controllo dell'istruzione, e furono assai ben accolti i gesuiti, cui ordine era stato ricostituito da Pio VII nel 1814. Le cariche pubbliche furono assegnate a nobili di provata fedeltà, e l'assolutismo regio venne restaurato in tutto il suo rigore, con una catena di comando che dalla persona del re si irradiava ai ministri, alle autorità provinciali, governatori militari ed intendenti civili. La crisi del 1821 portò all'abdicazione di Vittorio Emanuele I, a favore del fratello Carlo Felice, che governerà dal 1821 al 1831, che ne continuò gli indirizzi assolutistici e reazionari. La successione di Carlo Alberto, appartenente a un ramo cadetto della dinastia Savoia, il Savoia Carignano, che governerà dal 1831 al 1849, non modificò inizialmente l'orientamento autoritario e repressivo della monarchia, ma fece spazio con gli anni a un cauto riformismo che portò all'abolizione dei diritti feudali in Sardegna, tra il 1836 e il 1839, alla promulgazione di nuovi e più avanzati codici e alla liberalizzazione dell'economia. Le corporazioni, ad esempio, furono soppresse nel 1844. Solo alla vigilia del 1848, come vedremo nel corso di questa elezione, mutò decisamente l'indirizzo politico e il Regno di Sardegna si posa alla guida del motto di unificazione nazionale. Tuttavia, le solide tradizioni di buona amministrazione sabauda, di protezione dell'economia, favorirono anche il Piemonte. Un notevole sviluppo delle attività agricole, con particolare riguardo alla viticultura e alle risaie della pianura orientale e industriali. Lavorazione della lana, localizzata soprattutto nel Biellese, e filatura del cotone, intorno a Torino e nel Nuovarese. Anche il porto di Genova, dopo le difficoltà iniziali, trasse vantaggio dai provvedimenti Carlo Albertini e a partire dal 1840 circa, registrò un consistente aumento del volume dei traffici. Per quanto riguarda, invece, i Ducati Padani, noi parleremo sostanzialmente di due Ducati Padani. Il Ducato di Parma, Piacenza e, sotto Maria Luisa d'Austria, in realtà parliamo di Parma, Piacenza e Guastalla, e il Ducato di Modena e Reggio. Il Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla beneficiò del mite governo di Maria Luigia d'Aspurgo-Lorena, dal 1815 al 1847, che mantenne, in quanto seconda moglie di Napoleone, la legislazione napoleonica. Anzi, nel 1820 la sostituì con un codice civile ancora più avanzato. Il problema era che Maria Luisa non reggeva realmente lei il potere. Era il barone Josef von Wercklin, rappresentante del governo austriaco, a dettare realmente le politiche interne allo Stato. Nel 1831 il popolo gli si solleva contro, urlando Costituzione morte, a Wercklin. La Duchessa è terrorizzata, riesce a fuggire il 15 febbraio e entra a Parma solo l'8 di agosto. Non fu contento il popolo che lei fosse escortata da un'armata austriaca, ma per non farselo, per non inimicarselo, il 29 settembre dello stesso anno Maria Luisa proclamò l'amnistia generale. A Maria Luisa si deve la grande riorganizzazione moderna della pilota dove fece allestire una biblioteca, un museo archeologico e una pinacoteca, poi diventata oggi Galleria Nazionale di Parma. Tra le numerose opere che troviamo all'interno di questo bellissimo museo, troviamo una delle statue più belle, a parer mio di Antonio Canovo, sia la statua della Duchessa nelle sembianze della Concordia. Nel 1833 fu creata una sala per l'archivio di Stac e nel 1834 fu terminato l'ampliamento della biblioteca. Alla sua morte il Ducato di Parma e Piacenza passò a Carlo II, mentre Guastalla, vedremo, passerà agli Asburgo Este. Carlo II lo avevamo già incontrato nella scorsa lezione con il nome di Ludovico II di Borbone, re d'Etruria. Era un bambino in quel periodo, ecco, qui ritroviamo come uomo. Carlo governò solo due anni, perché nel 1848 i motti rivoluzionari chiameranno in Italia l'esercito austriaco, e nel 1849, agli inizi del 1849, l'esercito austriaco entrerà a Parma. Gli succederà il figlio, Carlo III, un governatore dispotico che ama la legge marziale, chiude addirittura per un periodo l'Università di Parma. Il suo governo si conclude nel 1854 con il suo assassino. Gli succede il figlio, troppo piccolo per governare autonomamente, Roberto I, che governerà sino all'Unità d'Italia e alla sua abdicazione dopo il plebiscito generale del 1859-1860. Dicevamo che l'altro stato che noi ci troviamo ad analizzare è lo stato del Ducato di Modena e Reggio, in cui il primo esponente che incontriamo fu ben diverso di carattere da Maria Luisa d'Austria, ossia il Ducca Francesco IV d'Austria-Est o d'Asburgo-Est, signore Ducca di Modena e Reggio dal 1814 al 1846. Da un lato animato da un odio inestinguibile verso Napoleone e tutto quanto questi rappresentava, il Ducca si adoperò per cancellare ogni traccia del passato regime, ripristinando i privilegi della novietà e del clero, richiamando i gesuiti, ordinando la reclusione degli ebraini ai ghetti, rimettendo in vigore il Codice Estense del 1771, sottoponendo l'università e la vita culturale a una sorveglianza soffocante. Dall'altro lato, egli ambiva a giocare sulla scena politica un ruolo più importante di quello che il suo piccolo Stato poteva consentirgli e cerca di sfruttare a tale scopo non solo i suoi legami di parentela con Giasburgo di Vienna e con i Savoia, aveva sposato infatti nel 1812 una figlia di Vittorio Emanuele I, ma anche i suoi rapporti, i rapporti da lui coltivati con ambienti liberali e settari. A tali ambigui contatti è da collegare la tragica vicenda di Ciro Menotti all'interno dei motti del 1831 Ciro Menotti fu uno dei grandi insurrezionisti che cercò di guidare un'insurrezione che in realtà venne spenta sul nascere il 3 febbraio del 1831 quando Duca Francesco IV fece circondare la casa del Menotti dove si trovavano in realtà altri congiurati e li fece arrestare e uccidere tutti quanti. Nel 1849 e nel 1846 gli succede il figlio Francesco V d'Austria Est o d'Asburgo Est. Nel 1849 il Duca Francesco V intraprende la riforma legislativa resa se necessaria e i lavori affidati ad un'apposita commissione si protrarranno fino alla seconda metà del 1855. 1859 abdica dopo che il plebiscito aveva dato un risultato strabiliante a favore del Sì e dell'annessione del Ducato di Modena e Reggio al Regno di Sardegna si ritirerà in esilio con la moglie Aldegonda di Baviera nel Castello di Cataio nel Veneto. Nel 1861 venne offerta la corona del Messico ma vi rinunciò perché parafrasando le sue parole le sue proprie parole sarebbe stato come tradire la sua amatissima Modena e la sua amatissima Reggio. Un altro Stato che si viene a ricostruire a ristrutturare e soprattutto a restaurare dopo l'esperienza napoleonica è il Gran Ducato di Toscana. Il Gran Duca di Toscana Ferdinando III d'Asburgo Lorena che aveva governato già dal 1790 al 1801 ma che governerà successivamente al Concilio al Congresso di Vienna dal 1814 al 1824 si ispirò nel suo governo saggio e moderato al modello del padre Pietro Leopoldo di cui ristabilì in gran parte la legislazione anche in campo ecclesiastico. Si giovò di abili ministri come Vittorio Fossombroni e Neri Corsini liberalizzò il commercio dei cereali instaurò un clima di tolleranza nei confronti delle espressioni culturali tanto che dal 1821 al 1833 poteva essere pubblicata a Firenze una delle vivaci riviste italiane dell'età della restaurazione l'antologia diretta da Jean-Pietro Vierceux fondatore di un celebre gabinetto scientifico e letterario questi indirizzi furono sostanzialmente proseguiti dal figlio e successore Leopoldo II 1824 1859 che promosse bonifiche e lavori pubblici durante il suo regno Firenze e la Toscana divennero un rifugio per molti liberali esuli da altre parti d'Italia la mezzadria rimase la forma di conduzione di gran lunga dominante nelle campagne ma grazie all'iniziativa di proprietari e fattori illuminati si verificò un incremento e un miglioramento qualitativo della produzione di olio e vino buon andamento ebbero anche la lavorazione della lana prate nel casentino e alcune altre manifatture come le cartiere la produzione dei cappelli di paglia intorno a Firenze il porto di Livorno si riprese dalla depressione in cui era caduto nel periodo napoleonico grazie anche a lavoratori e a lavori di ampliamento ma sonse le caratteristiche di un porto regionale piuttosto che di uno scalo per il grande commercio mediterraneo in contatto con i traffici globali quale era stato nel XVIII secolo altro stato che si deve restaurare completamente lo stato pontificio nello stato pontificio Papa Pio VII che sarà al soglio di Pietro dal 1800 a 1823 circondato dall'aureola del martire per la prigionia sofferta negli ultimi anni dell'impero napoleonico fu qua odiovato nel suo governo dall'energica azione del segretario di stato Ercole Consaldi che nel 1816 riorganizza tutta l'amministrazione dello stato dividendole in 17 province delle quali 5 Bologna Ferrara Ravenna Forlì e Piesaro Urbino erano rette da cardinali legati le altre da ecclesiastici di minor rango al di sotto dei legati vi erano governatori locali pure di nomina papale ma scelti anche fra i laici anche l'amministrazione delle comunità venne uniformata a un modello vicino a quello napoleonico i diritti feudali rimasero aboliti nelle ex legazioni mentre altrove furono ristabiliti ma entro limiti ristretti rimanevano grandi tuttavia le differenze tra le varie regioni e in particolare tra le province emiliano-romagnole umbre e marchigiane dove era diffusa la mezzatria dove non mancavano attività artigianali e commerciali e il Lazio regno del latifondo e della grande aristocrazia fondare nella capitale Roma all'ombra dei fastosi palazzi principali peschi cardinalizi si agitavano turbe di mendicanti di vagabondi cui numero e la cui miseria appena deviata tra molte istituzioni esistenziali colpivano tutti i viaggiatori sotto i successori di Pio VII inoltre cioè durante i pontificati di Leone XII dal 1823 al 1829 di Pio VIII dal 1829 al 1830 e di Gregorio XVI dal 1831 al 1846 ebbe la prevalenza al partito degli Zelanti già dei cardinali più intransigenti nell'opposizione a ogni novità si fece così sempre più profondo il solco tra un sistema politico del tutto anacronistico e le rivendicazioni dei ceti colti e degli operatori economici altro stato che esce dalla restaurazione ex novo è il regno delle due Sicilie infatti tra gli stati italiani della restaurazione il regno delle due Sicilie fu senz'altro quello che più mantenne un legame di continuità con le istituzioni napoleoniche ciò vale peraltro soltanto per il mezzogiorno continentale già che come sappiamo la Sicilia non fu mai occupata dagli eserciti francesi rimase sempre sotto il dominio dei Borbone l'intitolazione di Ferdinando I re del regno delle due Sicilie fu assunto dall'ex re di Napoli Ferdinando IV con un decreto dell'8 dicembre 1816 seguito tre giorni dopo da un altro decreto che annullava di fatto l'autonomia siciliana e la costituzione del 1812 e sostituiva l'antico vicerai rappresentante del sovrano nell'isola con un luogotenente generale interprete della linea di moderazione consigliata a Ferdinando da Metternich e dal governo inglese e primo ministro di fatto fu Luigi de' Medici che si adoperò per inserire nelle classi di governo parecchi collaboratori di Giuseppe Bonaparte e di Murat e conservò inalterata la struttura dei ministrieri dell'intendenza e dei consigli comunali ereditati dal decennio 1806-1815 furono mantenuti in vigore a Napoli e introdotti in Sicilia i codici napoleonici continuossi a pure rallentate tra molte difficoltà la cotizzazione dei demani feudali per cui trassero beneficio soprattutto i ceti borghesi le finanze dissestate dalle indennità pretese dall'Austria e dall'occupazione militare che si protrasse fino al 1817 furono risanate con taglia alle spese per i lavori pubblici e la pubblica istruzione che crearono non poco malcontento nei confronti della chiesa il Medici attuò una politica di conciliazione negoziando un concordato che venne firmato nel 1818 questo sforzo di pacificazione fu gravemente compromesso dai moti del 1820-21 e dal conseguente il rigidimento della corona in senso assolutistico autoritario che proseguì sotto Francesco I 1825-1830 e anche sotto il suo successore Ferdinando II 1830-1859 malgrado alcune iniziali aperture nei confronti del movimento liberale l'agricoltura registrò qualche progresso con l'estensione delle culture specializzate olive vite alberi da frutta della cereali cultura nelle zone interne ma ciò avvenne a danno della pastorizia e accelerò il disboscamento con effetti rovinosi per la stabilità dei suoli venire meno delle distinzioni tra proprietà nobiliare e proprietà borghese non si accompagnò a un mutamento delle forme di conduzione e di coltivazione rimasero per lo più ancorate al piccolo affitto a metodi arcaici di sfruttamento della terra condannando le masse contadine a un tenore di vita spesso inumano in sicilia in sicilia l'abolizione della feudalità già avviata nel 1812 e completata dalla legislazione borbonica modificò solo in superficie le gerarchie sociali basate nelle campagne sulla triade composta dai grandi proprietari per lo più nobili dai grandi affittuari intermediari gabellotti e dai coloni nelle città sui ceti professionali e sulle maestranze artigiane infine il regno di francesco secondo 1859 1860 vide l'avvento delle truppe piemontese e la fine anche del regno dell'indipendenza del regno delle due sicilie ma torniamo al contesto più generale quello che ci porterà poi a parlare del processo di unificazione italiana parliamo infatti dei moti del 1820 21 a Napoli tornata nelle mani dei Borbone accanto al partito murattiano nostalgico del regno bonapartista di Gioacchino Murà e del riformismo autoritario acquistò peso rilevante la carboneria che in contrasto con altre società segrete per esempio quelle dei calderari aveva organizzato una propria rete candestina a Napoli i carbonari si reclutavano soprattutto nelle classi benestanti e nell'esercito volevano la costituzione di Cadice del 1812 una riforma amministrativa un indirizzo economico liberista e la ripresa della lotta contro le prerogative feudali non avevano invece un vero interesse per la riforma agraria e in generale per le sorti delle classi popolari in parte incoraggiati dall'atteggiamento di Ferdinando I primo che interessanto al trono spagnolo si era dichiarato favorevole alla costituzione di Cadice i militari di stanza Nole a Capua nel luglio del 1820 si ribellarono con l'appoggio della carboneria sotto la guida di un generale murattiano Guglielmo Pepe i ribelli ottennero una promessa di costituzione del re che affidò il governo a un gabinetto fornato da esponenti moderati murattiani privo però di carbonari mentre Pepe veniva nominato capo delle forze armate pochi giorni dopo scoppiò la rivolta separatista a Palermo la Sicilia non aveva una tradizione murattiana essendo sempre rimasta sotto le influenze inglese e aveva fatto tutt'altra esperienza costituzionale rispetto alla Spagna aveva avuto anch'essa nel 1812 una costituzione ma di stampo britannica anziché francese tutta fondata sul controllo esercitato nella camera alta dalla vecchia aristocrazia feudale questa costituzione aveva dunque lasciato inalterati i rapporti sociali fra il 1816 e il 1819 invece erano state introdotte alcune riforme amministrative che per la prima volta intaccavano il potere dei varoni la rivolta palermitana ebbe così una doppia faccia da un lato contro l'oppressione borbonica come Napoli dall'altro in favore dei vecchi equilibri sociali nacque così un progetto separatista dominato dai conservatori accompagnato dal relativo progetto costituzionale da contrapporre al testo di Cadice i rivoluzionari lasciarono partire Ferdinando I che si impegnò a sostenere la loro causa per il congresso indetto a Lubiana dalla Santa Alleanta nel gennaio del 1821 invece il sovrano fece appello al sistema delle potenze europee finché si è sommesso il compito di stroncare la ribellione e così avvenne il congresso di Lubiana lasciò mano libera all'intervento dell'Austria nel regno delle due Sicilie il debole esercito di Guglielmo Pepe fu facilmente travolto nel marzo del 1821 appena otto mesi dall'inizio dell'esperienza liberale in matti del 1820-21 qui nello schema non l'ho riportato però ebbero importanti riflessioni anche in altri stati italiani ovviamente Lombardia in Piemonte operava la federazione italiana una setta segreta collegata alla carboneria che si proponeva come obiettivo la liberalizzazione la liberazione del nord Italia dall'occupazione austriaca e la creazione di un regno costituzionale nell'ottobre 1820 la polizia austriaca riuscì a stroncare sul nascere la cospirazione in Lombardia ed arrestare i suoi capi tra cui il musicista Pietro Maroncelli e lo scrittore Silvio Pellico direttore del conciliatore il periodico che faceva da punto di riferimento per gli intellettuali liberare Lombardi già soppresso nel 1819 dalla censura la condanna a morte che venne loro inflitta dal tribunale fu mutata in una lunga pena detentiva da scontare nel carcere dello Spielberg in Moravia Pellico narrò la sua drammatica esperienza nel libro Le mie prigioni che contribuì a sensibilizzare l'opinione pubblica europea sulla causa nazionale italiana in Piemonte invece nel marzo 1821 si ammottinò la guarnigione militare di Alessandria successivamente il motto si è stesa da altre città del regno spingendo Vittorio Emanuele I ad abdicare in favore del fratello Carlo Felice trovandosi quest'ultimo a Modena la reggenza fu assunta da Carlo Alberto di Savoia del ramo Carignano il quale aveva manifestato una certa simpatia per i liberali piemontesi ed era egli stessi in qualche modo coinvolto nel motto rivoluzionario da reggente Carlo Alberto concesse la costituzione ma fu sconfessato da Carlo Felice che gli ordinò di raggiungere la guarnigione di Novara restata fedele alla corona lo scontro di Novara dell'aprile 1821 fra gli insorti e le truppe regge pose fine al motto piemontese dopo i moti del 1820 ci sono quelli che arriveranno successivamente quelli del 1830 31 l'800 è un secolo di rivolte sostanzialmente di rivoluzioni arriviamo dalla rivoluzione francese il popolo ha acquisito una nuova visione di insieme di quello che succede e nel 1830 scoppiano altre rivoluzioni ad esempio in Francia nel 1830 Carlo X viene costretto ad abdicare e viene proclamata la monarchia di Luglio viene proclamato un nuovo sovrano Luigi Filippo d'Orléans re dal 1830 al 1848 che fu sostanzialmente un sovrano in mano al Parlamento quindi fu un sovrano costituzionale mentre Carlo X ultimo dei tre fratelli Luigi XVI XVIII e Carlo X per l'appunto fu costretto ad abdicare fratello quindi dello sventurato sovrano che perse la testa sotto la rivoluzione francese in Italia dopo il fallimento delle rivoluzioni del 20-21 la crescita del movimento di risveglio nazionale sembrava alquanto compromessa si discuteva di cultura sulle colonne di belle riviste letterarie e solo che attraverso qualche possibilità di sfuggire alla censura invece di politica si dibatteva assai poco mentre continuava un'attività cospirativa ormai stanca nel complesso l'Italia si trovava in una situazione di stasi ideale e politica corrispondente del resto a una società civile ancora molto tradizionalista alquanto lontana dello sviluppo capitalista il limite del risorgimento italiano è stato proprio questo di aver rappresentato un movimento d'opinione e di idee non corrispondente a una reale crescita sociale ed economica i certi ambienti restavano estranei anzi fortemente ostili al movimento nazionale e tutt'al più pensavano a forme confederative ad accordi economici ed uganali fra i diversi stati della penisola i contadini cioè la grande maggioranza della popolazione italiana erano completamente ignari dei fermenti nazionalisti che attraversavano il paese soli certi mediurbani artigiani professionisti studenti intellettuali sembravano coinvolti a vario titolo nella battaglia per l'indipendenza dell'Italia dall'Austria si trattò dunque di uno scontro di tipo ideale spesso eroico e animato da uno slancio morale politico nobile ma condiviso da una ristretta minoranza nel 1831 sull'onda della rivoluzione parigina scoppiarono nuovi moti questa volta nello stato pontifice nei ducati emiliani sebbene non minassero più a ottenere una costituzione ma semplici riforme amministrative anche questi vennero repressi con brutalità per l'appunto abbiamo parlato di Ciro Menotti da qui esce poi l'Italia che arriva al 1848 cosa era successo nel 1848 a partire dal 1846 la situazione politica italiana sembra volgere rapidamente verso un'evoluzione in senso unitario e liberale nel giugno di quell'anno era stato eletto papa con il nome di Pio IX Giovanni Mastai Ferretti un cardinale poco più che cinquantenne generalmente stimato per il suo equilibrio Pio IX appena salito al trono pontificio liberò i prigionieri politici concesse la libertà di stampe e fece entrare dei laici negli organi di governo nello stato della chiesa istituì inoltre due camere per l'attività legislativa e l'approvazione del bilancio statale queste riforme suscitarono l'entusiasmo dei nazionalisti liberali italiani che subito lo videro a capo di quella confederazione italiana immaginata dal moderato Gioberti sul trono di Savoia sedeva in quel momento Carlo Alberto succeduto nel 1831 a Carlo Felice e visto come un liberale perché da giovane si era fatto addirittura coinvolgere nei moti carbonari come abbiamo visto la prima scintilla dei moti del 1848 in Italia scoccò a Palermo dove i liberali insorsero il 12 gennaio giorno del compleanno del re delle due Sicilia Ferdinando II in anticipo di un mese rispetto alla rivoluzione parigina l'insurrezione portò in brevissimo tempo alla liberazione della città di tutta la Sicilia dalle truppe borboni dopo qualche settimana la rivoluzione scoppiò a Vienna a Praga a Budapest a Berlino e a Milano la vecchia Europa cadeva come un castello di carte nemmeno un mese dopo l'inizio della rivolta nel suo regno Ferdinando II concesse una costituzione seguita a ruota da Carlo Alberto che promulgò lo statuto Albertino poi ereditato dal regno d'Italia e rimasto in viruore fino alla fine della seconda guerra mondiale il 17 febbraio l'esempio fu seguito anche dal gran duca di Toscana il 14 marzo da Pio IX gli avvenimenti si susseguirono in maniera concitata gran parte dell'Italia sembrava scivolare senza traumi nel costituzionalismo moderato come il Belgio e la Svizzera scoppiò poi tramite le insurrezioni di Venezia e Milano e la richiesta di aiuto Carlo Alberto di Savoia scoppiò poi la prima guerra di indipendenza iniziata in maniera vittoriosa per le truppe piemontesi ad un certo punto gli alleati Toscana due Sicilia e Papato non vollero più inviare truppe in aiuto dei piemontesi e quindi la poca convinzione piemontese si trasformò in una sconfitta e nell'armistizio in particolare nella sconfitta di Custosa per cui dovettero ripiegare evacuando Milano benché le truppe di Carlo Alberto fossero ancora integre si verificò il crollo totale dei governi liberali e dell'intero progetto moderato di unificazione dell'Italia in senso confederale dietro al nazionalismo si affacciava quindi il tradizionale particolarismo italiano e dietro al progressismo costituzionalista il conservatorismo delle vecchie classi dirigenti e qui c'è utile ad esempio una citazione del Gattopardo in cui si dice se vogliamo che tutto cambi tutto deve rimanere uguale con il fallimento generale europeo del 1848 era venuto meno anche il progetto politico dei patrioti italiani che prevedeva una transizione ordinata guidata dai governi e dalla chiesa verso una riforma federativa la prima guerra di indipendenza quindi era stata infatti persa perché gli stati italiani non avevano saputo né voluto né i propri sforzi nel 1849 era stata la volta dei democratici e anche se avevano visto fallire le proprie speranze la guerra di popolo di stampo mazziniano combattuta ai margini e la prima guerra di indipendenza si era tradotta in risultato politico delle tre repubbliche democratiche di Roma Firenze e Venezia ma alla fine era uscita sconfitta anch'essa il tutto creò vari metodi varie visioni dell'unione della penisola italiana nel 1849 a Carlo Alberto di Savoia che dopo la sconfitta di Custosa abdica succede il figlio Vittorio Emanuele II anzi dopo la sconfitta di Novara nel 1849 si trova a gestire una situazione assai complessa Vittorio Emanuele II l'esercito era stato sconfitto nella prima guerra di indipendenza il Parlamento rifiutava la pace e lo statuto in vigore da appena un anno non costituiva ancora un saldo punto di riferimenti istituzionali a differenza degli altri sovrani italiani che avevano restaurato l'assolutismo Vittorio Emanuele sciolse la camera ma mantenne in vigore la carta costituzionale e gli indisse inoltre nuove elezioni dalle quali riuscì a ottenere una maggioranza disposta ad accettare la pace con l'Austria pur non essendo particolarmente ben disposto verso le idee liberali Vittorio Emanuele mostrò però di voler salvaguardare la monarchia costituzionale si dichiarava infatti determinato in un certo senso come Napoleone III a salvare la nazione dalla tirannia dei partiti grazie anche a un ceto politico di buon livello e a un profondo movimento di risveglio culturale rimase sempre un sovranno leale nei confronti dei sudditi nasceva così una monarchia costituzionale destinata a durare e diventare fondatrice dell'Italia Unita il primo governo del nuovo regime fu diretto da Massimo D'Azeglio a cui va il merito di aver introdotto il principio della laicità dello Stato qui diedero un decisivo contributo le leggi sicardi dal nome del loro estensore del 1850 con esse furono decretate l'abolizione di una serie di privilegi del foro ecclesiastico e la facoltà dello Stato di acquisire beni appartenenti alla crisi il governo successivo fu preseduto da colui che era destinato a guidare per dieci anni la politica piemontese che va considerato il principale artefice politico dell'Unità d'Italia Camillo Benso Conte di Cavolo aristocratico ex ufficiale dell'esercito proprietario terriero che avrà assunse le direzioni del governo nel 1852 dopo aver soggiornato a lungo in diversi paesi europei eletto deputato sin dal 1848 era noto per le sue competenze in fatto di agricoltura e di economia per le sue idee liberali che aveva spesso spesso espressi in un periodico da lui diretto il risorgimento subito si adoperò per modernizzare il Piemonte in tempi rapidi stipulò trattati di libero scambio con l'Inghilterra la Francia e il Belgio investì in omettevoli capitali nello sviluppo della rete ferroviaria e stradale nella costruzione di canali e di inizio nel 1857 ai lavori per la realizzazione del traforo del Frius grazie a un sistema accreditizio abbastanza efficiente l'industria siderurgica fece sui primi passi e complessivamente il Piemonte divenne in breve la regione più avanzata della penisola rappresentante naturale della destra moderata che raccoglieva l'aristocrazia e rappresentanti del conservatorismo cattolico Cavour non giudicava favorevolmente una contrapposizione frontale fra destra e sinistra alla francese ispirandosi al modello inglese egli puntò invece alla costruzione di un centrismo parlamentare in grado di attrarre sia gli aristocratici liberali sia i rappresentanti della burguesia moderata che aveva in urbano Rattazzi un avvocato di Alessandro il suo leader con questa politica detta del connubio Cavour riuscì a costruirsi una solida maggioranza parlamentare in grado di sostenere la sua abile politica diplomatica e il progetto di unificazione del paese come presentare il problema dell'unificazione italiana agli stati europei beh l'occasione gli fu offerta dalla guerra di Crimea che ruppe la pace quarantennale inaugurata dal congresso di Vienna e scoppiò a seguito dell'inarrestabile declino dell'impero turco-ottomano da un paio di secoli la Russia mirava al suo smembramento per ottenere la supremazia nell'instabile scacchiere dei Balcani e attraverso il controllo degli stretti del Bosforo e dei Dasdanelli un accesso al Mediterraneo queste ambizioni avevano tradizionalmente beneficiato della sostanziale neutralità inglese e francese contro gli islami e i russi si erano infatti assunti il ruolo di campioni della cristianità ortolossa gli austriaci di quella cattolica lo stesso quadro si era presentato circa 30 anni prima in occasione della lotta per l'indipendenza a fine del 1853 l'uzar Nicola I ritenne giunto il momento di dare una spallata definitiva al vecchio colosso spinto da Vittorio Emanuele II Cavour sostenne la necessità di entrare in guerra a fianco delle potenze occidentali in aiuto della Turchia sia l'opinione pubblica che la Camera erano contrarie a un'impresa nella quale l'interesse nazionale italiano non sembrava affatto coinvolto ma Cavour seppe capire l'importanza di essere presente al tavolo dei paesi vittoriosi che avrebbero disegnato il futuro assetto continentale al congresso di pace di Parigi per l'appunto apertesi nel febbraio dell'anno successivo Cavour riuscì in effetti ad attirare l'attenzione sul problema della questione italiana da questo momento la prospettiva nazionalista moderata fallita nel 1848 nella forma confederale guidata dal Papa risorgeva ora nell'azione della monarchia Sabauda sostenuta dal prestigio politico-militare della Francia di Napoleone III l'evento che contribuì a saldare i rapporti fra Stato Sabauda e Francia fu l'attentato compiuto contro Napoleone III il 14 gennaio 1858 da un agente mazziniano Felice Orsini che provocò la morte di otto persone ma non quella dell'imperatore il gesto di Orsini che fu poi ghigliottinato evidenzia il potenziale di destabilizzazione insito nella situazione italiana nonché le sue possibili ripercursioni in Francia e convinse Napoleone della necessità di un intervento in Italia per ridefinire l'assetto politico della penisola ed evitare il sorgere di nuovi fermenti rivoluzionali nell'estate del 58 Cavour si incontrò segretamente con l'imperatore nella stazione termale francese di Plombier e insieme disegnarono la futura carta d'Italia il Piemonte avrebbe fatto in modo di provocare l'Austria farsi dichiarare guerra il che avrebbe permesso alla Francia di intervenire a fianco del piccolo stato aggretto l'Austria sconfitta avrebbe dovuto cedere il Lombardo-Veneta al Regno di Sardegna che si sarebbe così allargato fino all'Adriatico la Francia avrebbe ottenuto Nizza e la Savoia gli stati dell'Italia centrali sarebbero stati unificati e fidati a un principe francese mentre il Regno delle Sicili sarebbe rimasto ai Borbone ed infine è prevista una riduzione territoriale dello Stato Pontificio ma il Papa sarebbe stata in compenso offerta la presidenza di una futura confederazione degli stati italiani non si parlava affatto di unità d'Italia la quale Cavour ancora non credeva le cose andarono inizialmente secondo il Copione l'Austria cade nella trappola Tresa e a fronte di ostentati movimenti di truppe piemontesi dichiarò guerra nell'aprile del 59 1859 iniziava la seconda guerra di indipendenti la Francia intervenne i due eserciti alleati batterono gli austriaci a Solferino presso Mantova alla fine di giugno mentre le truppe piemontesi da sole riportarono un'importante vittoria nella vicina San Martino l'entusiasmo dei patrioti italiani per l'evolversi della situazione nel nord l'Italia portò in Toscana e in Romagna lo scoppio di insurrezione in favore dell'annessione al regno di Sardegna il periodo di una nuova rivoluzione in senso repubblicano e democratico indusse però Napoleone III a interrompere le ostilità lo schema deciso a Plombier rischiava infatti di essere vanificato con grandi rischi per lo stato pontificio di cui l'imperatore francese si era dichiarato garante anche per ripagare i clericali francesi che lo avevano sostenuto nell'ascesa al potere e gli trattò dunque con gli austreci l'armistizio di Villa Franca che pose fine alla breve guerra solo la Lombardia passava al Piemonte mentre la Francia rinunciava momentaneamente alla Savoia per Cavour era un mezzo falimento da parte di Napoleone III un mezzo tradimento ma ormai in Italia il terreno per l'unificazione era pronto la scoccata a Solferino non poteva più essere spetta tra la fine del 1859 e l'inizio del 1860 l'Emilia la Romagna e la Toscana cacciarono i governanti e si ridettero delle istituzioni politiche transitorie finalizzate a preparare l'annessione al Regno di Sardegna a Palermo covava nuovamente la rivoluzione sostenuta come nel 1848 dalle bande armate contadine a Cavour va al merito indiscutibile di aver saputo gestire al meglio una situazione certamente non facile ottenne l'appoggio inglese trattò con Napoleone III il riconoscimento dell'annessione del Piemonte al Piemonte pardon dell'Italia centrale convalidata dai plebisciti in cambio del passaggio d'inizio della Savoia alla Francia anch'esso ratificato da plebisciti l'11 e il 12 marzo del 1860 la Toscana l'Emilia la Romagna i Ducati Minori espressero all'allorissima maggioranza la volontà di entrare a far parte del Regno di Piemonte e di Sardegna il crescente consenso che giungeva da tutte le aree del paese per una unificazione sotto la guida del Regno di Savoia le richieste che venivano dai gruppi mazziniani attivi nell'Italia meridionale convinsero Giuseppe Garibaldi che era possibile tentare una spedizione rivoluzionale in Sicilia Garibaldi era nato nel 1807 inizia da una famiglia di capitani di marina mercantile era entrata ancora adolescente nella giovine Italia e aveva partecipato alla cospirazione mazzinana nel 1834 in Piemonte condannata a morte a soli 17 anni era fuggito in Sud America dove aveva partecipato alle lotte di liberazione contro gli spagnoli e entrata in Italia nel 1848 a testa di una formazione di volontari italiani e suoi compagni in America Latina si era battuta a fianco dell'esercito Sabauto e in difesa della Repubblica Romana cosa succede? nonostante la cautela di Vittorio Emanuele Garibaldi organizzò in gran fretta la spedizione e riuscì ad armare due navi imbarcatosi con un migliaio di volontari famosi mille a quarto presso Genova il 5 maggio 1860 sbarcò qualche giorno dopo a Marsala all'estremità occidentale della Sicilia dopo aver sconfitto in un primo scontro un contingente borbonico a Calatafimi il 15 maggio assunse la dittatura dell'isola in nome di Vittorio Emanuele facendo appello all'insurrezione contadina puntò su Palermo dove entrò vittorioso meno di un mese dopo il suo sbarco a Marsala Garibaldi aveva fatto l'impossibile con un pugno di coraggiosi volontari aveva ridato speranza alla rivoluzione portandola alla vittoria la sua avanzata fu veramente rapida il governo Sabaudo però non poteva permettere che il sud diventasse una repubblica democratica sotto Garibaldi capace di destabilizzare l'intero assetto politico Cavour decise così di passare all'attacco quattro giorni dopo l'entrata a triunfare di Garibaldi a Napoli un esercito piemantese avvercò i confini dello stato pontificio occupò Le Marche e Lumbria con il fondato argomento di prevenire la minaccia rivoluzionaria in ottobre l'esercito che ribadina quello piemantese si trovavano uno di fronte all'altro nel famoso incontro di Teano del 26 ottobre 1860 il 17 marzo 1861 il re di Sardegna viene proclamato dal primo Parlamento Nazionale re d'Italia per grazia di Dio e volontà della nazione la capitale restava a Turinia Vittorio Emanuele teneva la denominazione di secondo a sottolineare la continuità tra il Regno di Sardegna e il Regno d'Italia nasceva infatti un nuovo soggetto politico ma si ingrandiva uno stato esistente tramite conquiste e annessioni lo statuto albertino le istituzioni politiche e gli ordinalimenti amministrativi del Piemonte vennero estesi al resto della penisola e alle potenze europee venne così inviato un messaggio inequivocabile la monarchia Sabauda aveva portato posto termine al disordine italiano parallelamente al processo che portò l'Italia all'unità politica si avviava in Germania un fenomeno analogo che avrebbe avuto come risultati l'unificazione del paese e la costituzione dell'impero germanico l'Italia si allea quindi con con la Prussia e questa alleanza porterà poi tramite le guerre che si scatenerà tra Prussia e Austria alla terza guerra di indipendenza che scoppiò nel giugno del 1866 i prussiani dimostrarono una netta superiorità occupando con un'operazione rapidissima gli stati tedeschi alleati degli Ersburgo e sfondando le linee austrecche in direzione di Prada il 3 luglio la battaglia di Sadova in Bohemia pose di fatto già fine alla guerra la confederazione germanica fu sciolta e a nord del fiume meno l'influenza austriaca fu eliminata la Prussia incorporava vari stati tedeschi unificava il suo territorio saldando le province occidentali renane con Berlino diventava leader indiscursa della nazione tedesca per gli italiani la guerra fu invece un disastro militare sia nella battaglia terrestre di Gustosa del 24 di luglio dove già i Piemontesi avevano perso nel 1848 la prima guerra di indipendenza sia in quella navale di Lissa il 20 luglio nell'Adiatica nonostante la vittoria ottenuta da Garivaldi e dai suoi volontari a Bazzecca tuttavia grazie alla vittoria prussiana l'Italia otteneva finalmente Venezia ma non Trento e Trieste e non ancora Roma come potenza militare il giovane regno d'Italia ne uscì umiliato ma l'alleanza con Berlino si rivelò una scelta efficace parliamo ora di come concludiamo oggi la nostra lezione con una discussione su come uscì il regno d'Italia su quali erano le visioni politiche cioè quella di destra storica raggruppamento politico liberale moderato formatosi sotto la guida di Camillo Benzo Conte di Cavour la destra guidò il governo dell'Italia fino al 1876 e la sinistra storica raggruppamento politico erede delle correnti del risorgimento che facevano riferimento alle posizioni di Mazzini e Gribatti che nel regno d'Italia si contrapposa alla destra storica e che governò a partire del 1876 con Agostino De Prentis l'Italia ha grandi problemi interni e a carattere economico e non solo problemi interni e carattere economico sono il pesante debito pubblico l'assenza di un mercato interno e la prevalenza dell'autoconsumo Gli altri due grandi problemi sono la questione meridionale che i problemi maggiori come era prevedibile infatti vennero dall'ex regno delle due Sicili la società civile del sud era stata schiacciata dal mal governo borbonico anche se su questo si discute molto perché bisogna discutere sui dati però quando si leggono i dati si legge che Napoli ha parità con altre province italiane risultava quella più industrializzata prima dell'unità d'Italia bisogna sempre assieme a Livorno ad esempio bisogna sempre contestualizzare i dati e circoscriverli e capirli soprattutto questi dati si riferiscono ad una provincia Napoli che era industrializzata perché molta della popolazione non abitava più in campagna bensì all'interno della città e quindi era occupata per forza nell'industria quindi si risultava risultava molto più industrializzata soprattutto perché le campagne si erano velocemente svuotate come cercò di arginare l'Italia le differenze le sì le differenze tra nord e sud cercò di arginarle tramite l'intervento militare che provocò una grande risposta da parte della popolazione del meridione che arriverà ad essere il brigantaggio che per alcuni viene visto come la prima vera lotta partigiana parte di resistenti contro l'occupazione di uno stato estero che non dichiarò mai ufficialmente guerra ma in base senza una dichiarazione di guerra ufficiale un altro stato sovrano per altri invece venne vista come la semplice ribellione di gruppi sbandati e qui gli storici ovviamente si dividono la verità sta sempre nel mezzo in questo caso sta sempre nel non sbilanciarsi nel discutere se fu una cosa fatta nel bene o fatta nel male poi ovviamente ogni storico deve riportare oggettivamente il fatto poi ad un certo punto dice anche a parer mio fu una scelta giusta o fu una scelta sbagliata altro problema che si viene a porre è che il generale piemontese Raffaele Cadorna alla testa di un corpo di bersaglieri nel 20 settembre 1870 aprì a cannonato una breccia nelle mura di Roma in corrispondenza di Porta Pia e occupò la città Roma l'anno successivo venne proclamata capitale del regno l'unità d'Italia era simbolicamente conclusa ma iniziò un'altra grande questione la famosa questione romana infatti Pio IX aveva convocato un concilio nel 1870 in cui affermava il dogma dell'infallibilità papale e soprattutto del suo assolutismo spirituale dopo la sconfitta di Sedan delle truppe francesi abbiamo visto che Cadorna riesce ad entrare a Roma e a proclamare la capitale ma Pio IX rifiuta l'accordo e nel 1874 proclama non expedit ossia inizia in questa maniera l'opposizione dei cattolici al governo italiano e la chiusura dei vertici della chiesa e questa situazione si protrarrà sostanzialmente fino al 1929 scusate quando nel febbraio 1929 Mussolini firmerà con il rappresentante dello stato pontificio i patti lateranensi il pontificio più non infatti si era nominato prigioniero dello stato italiano e Mussolini riconoscerà il governo allo stato della chiesa il pontificio il governo su un piccolo territorio corrispondente grossomodo a San Pietro ed alcuni territori che diventerà città del Vaticano e l'indipendenza di questo territorio all'interno dello stato italiano un enclave nello stato italiano ma sin ad allora i cattolici faranno opposizione al governo tant'è che i pontifici diranno non andate a votare non votate per uno stato liberale per lo stato liberale laico che ha imprigionato il pontificio così concludiamo la nostra quinta ed ultima lezione di carattere generale vi do appuntamento alla prossima lezione che verterà invece sarà la nostra prima lezione di carattere per così dire monografico che verterà sulla dinastia dei visconti e degli sforzi vi auguro quindi un buon proseguo di giornata